La decisione della Lega di interrompere questa esperienza di governo al fine di tornare urgentemente alle urne elettorali, i larali, la reputo oggettivamente grave. Spiego perché. Mi disse che il ministro dell'interno è nazista. Vedete, mi assumo tutta la responsabilità di quel che affermo, rivela, fermo, che l'hanno scarsa sensibilità e grave carenza di quel che affermo è costituzionale. Peraltro questa decisione è stata cascata dal ministro dell'interno subito dopo aver iniziato l'approvazione con la fiducia del decreto legge della sicurezza bis. Caro ministro dell'interno, caro Matteo, sei proprio un coglione. Tu, amico mio caro, andrai in pensione anticipata. Fidati, è la cosa migliore.